Vuoi ottenere 12 crediti formativi universitari in politica economica nel settore scientifico disciplinare SEC SP02? Icotea, istituto universitario, ti dà la possibilità di seguire anche in modalità da remoto il corso di politica economica SS di SEC SP02. L'esame di fine corso consta di due prove di cui una scritta e una orale. La certificazione finale emessa è valida per recupero, debiti formativi, concorsi pubblici e avanzamento di carriera. Per saperne di più vai su www.icotea.it, tipologia corsi singoli, cerca, politica economica SEC SP02.